Parliamo dell'antenna di Terra Negra, è sorto un comitato appunto che ne chiede la rimozione che è preoccupata, cittadini preoccupati appunto di questo eco mostro se possiamo definirlo così. Ma la posizione dell'amministrazione è sempre stata chiara, quindi siamo sempre stati contrari a queste antenne soprattutto se posizionate vicino a case o come in questo caso che non è assolutamente vicino alle abitazioni però all'interno di una zona verde. Per chi ci sente e ci si ascolta chiariamo che non è assolutamente sul terreno comunale ma è sul terreno della SPES che con delibera della fondazione proprio nel 2013 il presidente Scandaburlo che è stato onorevole del Partito Democratico e quindi ha una colloquazione politica ben precisa, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato questa concessione dell'area per la realizzazione di questa antenna. Oggi è uscito anche la verità, cioè che questo era in accordo con l'amministrazione del Comune ma non poteva essere altro, altro che non sapevano come stanno dicendo i consiglieri comunali del PD che allora erano assessori, quindi non è che non erano a conoscenza dei fatti comodo è fare lo scaricabarile. L'approvazione poi di questo tipo di antenna è stata soggetta quindi all'ARPAV e autorizzazione provinciale, nel Comune è passata con il silenzio assenso. Io ho sentito i tecnici, i tecnici mi hanno detto che non si poteva assolutamente dare un parere contrario e quindi per non dare un parere favolevole hanno lasciato decorrere il tempo. Quindi l'amministrazione comunale non ha nessuna attuale, non ha nessuna responsabilità sulla questione dell'antenna di terra negra. Quello che io ho fatto chiaramente è stato mandare una lettera ieri ma sentire anche i proprietari ed offrire una possibilità cioè il Comune in una situazione del genere è pronto a mettere a disposizione un terreno in zona industriale, cioè in una zona dove già ci sono delle antenne e dove non ci sono abitazioni e comunque dove insomma anche dal punto di vista visivo e ottico non dà un grande disturbo, saremo disposti anche a fare delle condizioni di favore purché venisse spostata. Adesso qui la palla passa alla società e passa alla SPES alla SPES per cancellare questa convenzione che avrebbe dovuto insomma concordare almeno con la cittadinanza e con chi abita o chi vive là intorno e seconda cosa con la società che a questo punto deve valutare e a cui io ho chiesto per iscritto di fare un passo indietro di valutare la posizione e quindi la richiesta da parte dell'amministrazione. Sempre l'opposizione dice però che il sindaco non può donare un'area comunale Ma io la metterò, non è che la dono, posso metterla a disposizione quindi in diritto superficiario, anche qui bisogna un po' nella vita anche bisogna conoscere quali sono le possibilità per un comune mettere in diritto superficiario magari o in concessione per un periodo abbastanza lungo che faccia rientrare almeno una parte delle spese che sono già state ovviamente consumate quindi questo è quello che può fare un'amministrazione certo il ramarico è sicuramente di noi tutti, dell'amministrazione perché se ci fosse stato da parte della SPES e da parte della stessa ditta una segnalazione precedente a Massimo Bitonci io certamente qualche mese fa avrei trovato immediatamente una soluzione certo che forse non c'era la volontà da parte né di SPES di rinunciare all'affitto né da parte della società di rendere pubblico quello che poi sarebbe successo